Scusi signora Flash, me la lavo una curiosità Tipo? Mi spiega come mai un quarto a mezzogiorno quando c'è lei c'è sempre qualcuno e more? Che schianta No, ma non è mia vero, è una coincidenza, auguri, è comunque Ma ne dittela, soffrende mia se mi tocco i coglioni No, ma scherza, faccia, faccia